Allora, quanti giocatori vanno via? Diciamo che ci saranno tanti movimenti perché fortunatamente anche i calciatori che abbiamo visto nella Clip, ma non solo, sono tutti, a differenza dell'inizio della stagione, hanno tutti mercato, piccolo, ma hanno mercato, piccolo o grande, ma ci sono arrivate richieste, quindi a discrezione dell'area tecnica ci saranno movimenti da fare. Le richieste per chi è in partenza ci sono e come in casa Avellino, la conferma di Giovanni D'Agostino nel corso di zona verde ne è una prova, e allora giusto chiarire il quadro delle uscite, con la valigia pronta ci sono sicuramente Forte, Scognamiglio, Sbraga, Micoschi e Guadagni, hanno richieste Garetto, Franco e Murano, dovrebbe restare Totò Di Gaudio che al momento non ha molto mercato, visto tutto il tempo passato più fuori che dentro il campo. Ma non solo, tra i giovani di prospettiva brillano le serie di Francesco Maisto, che è seguito con attenzione da diversi club di Serie A, fino a Lorenzo Moretti, per il quale c'è un accordo con l'Inter nel caso di cessione a una società di massima serie. Ma la notizia più importante riguarda Jacopo Murano, per la settimana prossima è fissato un incontro tra Enzo De Vito e il suo agente Andrea Cattoli, per capire quale sarà il suo futuro. Potenza e Monopoli lo cercano, il DS Biancoverde al momento valuta e bisognerà poi capire l'entità delle offerte, ma pare proprio che nella città lucana sia scattata una sorta di campagna aiuti nei confronti della società per poter ingaggiare l'attaccante che è Potentino di nascita. Con il Potenza ha cominciato a giocare in eccellenza, poi vi è tornato in Lega Pro prima di andare al Perugia in Serie B. Per Mikoski c'è sempre il Taranto, per Franco è possibile un ritorno alla Turris, mentre per Garetto si sono fatti avanti Andrea e Viterbese. Guadagni invece è finito fuori rosa e vicinissimo alla Re Canatese.